Galatea ancora al centro delle cronache e dei malumori del comparto marittimo. La petroliera che più e più volte è stata costretta ad abbandonare il porto di Pescara, anzi per la precisione, a restare a largo e non entrare causa a fondali bassi e ripartire per altri porti, questa mattina invece è stato il capitano a bordo a bloccare la petroliera, scoprendo che i fondali raggiungevano soli due metri e mezzo. Troppo bassi per il suo passaggio e così ha dovuto proseguire portando via con sé tutto il carico. Quello destinato a Di Properzio, che oggi racconta la grande difficoltà che vive per questa situazione, costretto per non perdere il suo carico a riversare il trasporto su gomma e di conseguenza a perdere tempo e spendere molti più soldi. Fa sapere la capitaneria che nei prossimi giorni si svolgerà proprio in quell'area, oggi in Sabbiata, il prossimo intervento.